Una sconfitta che rischia di farvi arrivare a pari merito con il Napoli se dovessi vincere questa sera? Pesa comunque come sconfitta? Come dice Fazio, ci sono ancora tante partite a giurare. No, sì sì, è una sconfitta dura per noi, però tifiamo questa sera per il Napoli perdere la partita. Cerchiamo di continuare a lavorare, di fare il nostro. Però un risultato durissimo per noi, che era una partita che era da vincere. Hai segnato dopo 5-4 minuti, poi sembra che si è un po' disunita la squadra, che ha perso la concentrazione. Ti ha dato la stessa sensazione a te? Credo che siamo andati troppo indietro. Quando si va indietro inizia a dare spazio alla squadra avversaria per creare situazioni. No, sapevamo che giocare qua era duro e poi abbiamo concesso un po' di spazio e così succede. Hanno creato distrazione e hanno fatto il gol come noi. Abbiamo tante opportunità di chiudere la partita, però non l'abbiamo fatto. Quindi è così. Senti, il cambio in difesa ha influito sul risultato? Togliere mano alas e mettere mano alas? Credo che no. Credo che abbiamo un gruppo bravissimo, di bravissimi ragazzi. La nostra squadra è forte. Anche se esce l'uno e entra l'altro, continua forte. Quindi quello che gioca lo sai cosa deve fare. Credo che è stato benissimo. Benissimo. Grazie. Grazie. Grazie